This is Vitek Tape, show on air every day, indie music from Tavern di Corciano to the world. Ciao a tutti e benvenuti a Vitek Tape, il programma ufficiale di Vitek Records. Io sono Rossella e starò in vostra compagnia per la prossima mezz'ora. A Walk, alternative band, proveniente da Carpi, attivi dal 2011. Il loro brano è Australe. Ma le colonie di canguri, resta umano e tu ancora vivi. Sparo al mio migliore amico e rido, o si rido. La legna morta nel bosco, ora è casa per fantasmi. I laghi stagnanti, ora a volte sono allucinogeni. Costringimi E legami E poi straziami Dare un senso a discorsi paralleli, senza distorsioni temporali. Sono un uomo il mentale, con i giochi di luce uso palloni, per riprodurre il sole, per capire il rumore. Costringimi 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 E legami E poi straziami E poi straziami E poi E poi Grazie a tutti 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 Così Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti